Uè campione, come va? Come stai? Stai dritto con la schiena, che scrivi? Gli idilli, fra fidati, quelli non se li cacca nessuno. Andiamo a farci la birra? C'era pure Silvia, mi ha detto che adesso scende dai. Chi mai le leggerà? Chi mai le studierà? Andiamo a farci la birra, dai. Fidati, tu da oggi non devi più scrivere. Perché ti fa male. Devi fare altro. Tennis, padel. La scrittura. È una violenza nei confronti di noi del futuro. Non è che siccome stai male tu, dobbiamo stare male tutti. E andiamo fuori, invece che starei sempre qui a scrivere. L'infinito l'hai scritto? Buttalo, non funziona. Non funziona. È il sabato del villaggio? No, perfetto, usciamo. Usciamo. Ti viene in mente fra due o tre anni? Parla di staserata clamorosa, di stasera, in cui tu sei ubriaco perso e ti limori finalmente Silvia. Però se non usciamo questa cosa non succederà mai. Dai, cos'è qua? Ti aiuto io. Oh, il passero solitario. Allora, ce l'ho. Stai andando forte, apri tutte le porte. Dai, finita, a posto, usciamo. Dai!